e ciao a tutti ragazzi sono cammini e benvenuti a questo nuovissimo video di minecraft mega dropper basta minecraft mega dropper questa è la intro partiamo subito bene incominciamo questo sì e no sì e no no ho vinto già hai vinto ovviamente nel sì prima di tutto di nuovo guardia oddio no ma che cosa si è vecchio dove non ti devo picchiare basta dai ma secondo me era sì non te lo prende ragazzi no no me lo prendo vuoi fare questi qui sopra ecco lì questo voglio provare primo cosa è questa qui mi chiudi un attimo no si lotta si conquista si conquista dai dai ah 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 grazie ciao ma come ciao domi ecco adesso che si è arrivato eh basta dai un pugno in faccia possiamo incontri possiamo ricontinuare vuoi fare di nuovo quella sopra vuoi fare di nuovo quella sopra una sopra vuoi fare sing ah 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 tocco l'inglese proprio ah ah no mi sei bloccata ciao no 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 è valido così ciao ah 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 non è valido così ah ah peccato anche io peccato che sfortunato ma mai questo non ce la faremo mai 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 vai una gara una gara una gara una gara una gara uno contro uno chi arriva prima dai prima io ma presto si anche io dove sei preso ma no io vado e ho vinto si li voglio rifare li voglio rifare li voglio rifare li voglio rifare dove sei in quelli sopra in quelli sopra ciao ah si buongiorno ah sei caduto vai terzo spiral star spiral star ah start via no 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 come fai a picchiare però questa è una gara combattuta però non mi devi picchiare non mi devi picchiare però che cavolo non vale tutto vale qui ah ciao 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 uaaaaa ma dove siamo qui ma è possibile tommy stavo prendendo una strada di vestra no lo faccio tommy mi sono intrappolato io sono morto eh ma io quasi ero morto eh e devi finire che finisce nooo ancora venti secondi aspetta caduta caduta in diretta uuuuuhu adesso sono morto ria andiamo di là dai il gatto cosa c'è qua no ma come uuuuuh 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 dai dai ma come no di nuovo di nuovo di nuovo prendi e vai facciamo prismans palace che a te ah pure a te bello vai premi qui per iniziare adio no ma perché a te ciao ma che hanno contro di me che io ho fatto cioè è brutto eeeh tu non mi prenderò il nome ciao e no ciao ciao ti ho detto tanto ciao è una gara in buono cioè magari come fai a essere ciao dammi dove sei di là di là di là si va aaaaa dove sei andata aiuta dove sei andata dove sei andata dove sei andata dove sei andata no dai davvero Tomaso Tomaso ma per dove sei andata uuuuh uuuuh ce l'hai fatta si è tu no a me ma mi è finito quasi è tu a me mi è quasi finito il volo Tomi Tomi aiuti dai che ci sono non ci sei non mi puoi finire ma non puoi farcelare ah ma com'è bello quando Carmine cade ma dite voi ma quanto è bello vendi dai no basta io voglio rifare ah Carmine a tutti i costi no 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 non è vero facciamo un altro un altro quello dopo quale? underground kid go questo vai bello 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 ma perché a te ciao no a qua dove si va? si prendo oh c'è un buco no c'è un buco c'è un buco no è una trappola no invece no non è una trappola ma che c'è un villagero ciao Tomi mi picchi? eh no come? dobbiamo picchiare i carrelli aiuto 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 via via cosa fare? via tanni carrelli nel buco ciao lo slime tommi lo slime lo slime dove sei? stagliti no Tommi no Tommi però dai ma come? ah insieme ma come? niente prela prela ha vinto ah non mi ha teletrasportato teletrasportato un'altra prossima ma come? allora dobbiamo fare PURPURPANIC PURPPANIC ma che cosa? ma che brutti nomi che tappa allora ciao ciao Tommi no come vieni qui? sei vicino a me? ah si stanno dietro ciao Tommi no non l'ho visto lo sono ancora in no Tommi dai però ciao no mi devi picchiare oh buongiorno dove sei? no sbaglio c'è un pappagallo un pappagallo si con un elefante e uno struzzo eh si vabbè ehi la puoi finire aiuto prima io prima io prima io prima io ma dai calmi no 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 si 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 ah 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 ma quanto è bello il decante dai premi i pulsanti vieni qui ragazzi facciamone un altro però non penso che dai sai fare facciamo Mad Forest Mad Forest penso sia Mad o sia Mad Mad Must via via premo io non vale però perché no però dai però non vale però però non vale però dove si passa no che è meglio la foresta quando la vedi sotto sopra mamma mia sembrano tipo quei bastoni che usano i ninja è un'emozione ragazzi c'eravamo divertiti sul trampolino jump mamma mia voglio uno schiaffo c'è una cosa nella cassa Tommy che dici vogliamo chiudere qui questo video ma dai si ma dai 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 no do 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 e quindi ragazzi questo era Minecraft Parkour Magra Dropper speriamo che il video vi sia asciuto sì sì noi ci vediamo con il video di domani vogliamo almeno spolliciate spolliciate vogliamo dire ancora grazie a tutti gli iscritti che ci stanno seguendo perché oggi sono aumentati un sacco siamo a 16 noi sapevamo di avere così tanti iscritti ultima cosa a 20 iscritti arriverà la live e noi ci vediamo con il video di domani ciao 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 Grazie.